Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Michael e oggi ci troviamo qui su Clash of Clans, per il secondo episodio, vabbè qui c'è di sottofondo Timber, vabbè, vi volevo dire ragazzi, a parte che ho trovato un clan dove mi ospitano bene e poi, ebbene sì, mi sono fatto la Tesla occulta, per chi non lo sapesse in vecchio video parlavo appunto che la volevo, adesso finalmente ce l'ho. E diciamo che, può attaccare un pecco, guardate, ah vabbè, poi mi sono cambiato la lingua in inglese per un piccolo trucchetto così, diciamo che gli inglesi sono molto più forti degli italiani, ciao, non saranno più risorse, mi trovo bene così, quindi ragazzi, iniziamo subito, allora, per prima cosa vi voglio far vedere un video che ho fatto, un attacco che ho fatto, e questo, che ho avuto al 100%, e 60.000 di ore, e delisirte, e 50.000 di ore, ho iniziato brevemente, ce l'ho con un po' di aceri, poi, scusatemi, e poi un po' di aceri qui, c'è un sacco, una maria di giganti, barbari come il barbari, come il barbari, e guardate, così, non è morto, mi ricordo, cioè, un guaritore, 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 un guaritore. E qui, vabbè, è l'ultimo accampamento per, per il 100%. Ok, ragazzi, vi voglio far vedere questo attacco, poi vi voglio far vedere che, possibilmente, quando arriverò a, un milione e 250.000, non esiterò, però, e non, così, cioè, non farò, questa, ma il bellesimi migliora è questa, e vabbè, vi devo far vedere questa, possibilmente. Oddio, che è successo? Ok, ragazzi, mi si era bloccato il pc, capisco qua. Ok, ci sono, mi si era bloccato il pc. Allora, c'è la persona, allora, poi vi voglio dire che, tra un giorno e 12 ore, vabbè, un giorno e 13 ore, mi si fa la cosa è maniera, quindi, se vi volete venire il nostro class terminator, io riuscivo a donarvi, almeno, dei, degli sgherri. Ora, io, sto, sto, sto prendendo tutti gli alberi possibili, immaginabili, per prendere abbastanza gemme, così, ne avrò più 50, quando rivelo a 1250 trofei, ne avrò 500, e mi compro finalmente un nuovo muratore. Poi, ragazzi, vi voglio far vedere questo video di Kevin, un mio caro amico. Eccolo qua. Eccolo qui. Ha preso quel dati conto di bottino, più di 100 mili, se non ricordo male. Sì. Grande. Grandissimo. Forse però non ce l'ha fatto in tempo. Sti dannati. Non ce l'ha fatto. Ce l'ha fatto, eh. Poi, ragazzi, una dell'ultima cosa che vi volevo dire è che sono salito a livello 41. Eh, sì, perché grazie al teso racconta mi ha dato un bel po' di esperienza. Ora, ragazzi, sto cercando di fare, eh, appunto, questa. Quando la fai, diciamo che, tra virgolette, vi avvertirò. Poi, ragazzi, il mio prossimo obiettivo è avere la casa in maniera e fare attacchi, visto che ho 1840 con elisione nero. Ehm, elisione nero perché ho fatto attacchi del tipo, vabbè, tipo, che ve l'ho fatti vedere questo, elisione nero, vabbè. Perché, uno con sgheri, ne ho fatto questo. 116 di elisione nero. Diciamo, già un buon, un buon acquisto. Quindi, ragazzi, tra pochissimo, tra un giorno, mi sembrava la casa in maniera. Vi volevo dire questo. Ehm, io vi ricordo di iscrivervi al canale. Se vi piace la serie, commentate, dicendo, appunto, che vi piace la serie. Se volete che continui, mettete un bel pollicione in su. Iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella!